Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 direzione Roma, coda a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello e coda tra Calenzano e Bivio A1 variante di Valico verso Bologna. Sulla FPL direzione Livorno rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino verso Firenze. L'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze resta chiusa fino al prossimo 16 settembre. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restrincimenti, percorsi alternativi sull'SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Bocassi Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!